Compagnia di Damian Florian, finalmente sei ritornato al gol, il capo canoniera della Clivens non poteva stare a secco per molto e sei tornato alla grande con una doppietta che valsa ai tre punti. Sì, sì, sono contento di questo. Infatti in tutte queste due o tre settimane che sono stato a secco ci ho provato un sacco anche in allenamento, anche in partita, dopo alla fine i gol quando meno te lo aspetti arrivano, però l'importante sono le prestazioni, penso comunque di averle sempre fatte. Oggi è importante vincere di nuovo, è importante anche per me tornare al gol, infatti grazie ai miei compagni, grazie al lavoro della settimana ci sono riuscito. Quindi ora non ti devi più fermare come è successo prima, come lo si deve più fermare nella Clivens che ha ritrovato anche la testa della classifica? Sì, dobbiamo cercare di continuare a marciare, quindi se poi qualche volta ci sarà un momento si spera di no, però cercare magari di riuscire a portare a casa anche un punticino che non fa mai male per muovere la classifica. E niente, insomma, dopo continuare come stiamo facendo. E poi soprattutto anche una vittoria da dedicare al Presidente che ha avuto questo lutto familiare e quindi era qui sempre al seguito della squadra, gli avrà fatto piacere. Vabbè, credo sicuramente di sì, volevamo già dedicargliela mercoledì, però le cose non sono andate forse anche giustamente perché non abbiamo interpretato bene la partita mercoledì, comunque sono cose acqua passata. Oggi abbiamo rigiocato, vinto e ci siamo ripresi la classifica, però i conti li facciamo alla fine, non sicuramente a novembre.